L'ex numero 7 parla anche del futuro dei due club, Sarri avrà qualche difficoltà ma sarà protetto dall'ambiente, commissori ha ceso passione ed entusiasmo ad il 7, da non confondere con chi a Napoli fa il presidente, è un soldatino a metà, è felice tra il bianconero e il viola, tra CR7 e 7 franchi svizzeri. Lui con Cristiano Ronaldo e, Frank Ribery, le stelle accese domani al franchi, condivide uno stato d'animo, il 7, molto più che un numero, quasi una missione. Non posso certo fare paragoni, ma, nessuno faticava come me su quella fascia, dice adesso. Dominatore nella grande Juve anni 90, a Firenze ha poi mangiato il pane duro della C2, così si è, guadagnato un primato, conservare l'amore di due tifuserie in perenne lotta. Viste le tante novità, questa sua sfida stavolta è perfino più interessante. Nuova società da un lato, nuovo staff tecnico dall'altro, chi rischia di più, di Livio? La Fiorentina, non c'è dubbio. La solidità della Juve non dipende dall'allenatore, funziona la società, il resto viene da, se. Certo, Sarri troverà qualche difficoltà, ma sarà protetto dall'ambiente. Per i viola no, tutto è diverso e bisogna fare in fretta, Firenze ha bisogno di tanti fatti, e poche parole. Ma a commisso dobbiamo riconoscere un merito, a riacceso passione ed entusiasmo. Copyright, riproduzione riservata, let's block ad.